Azzurri Con la doppia vittoria contro Romania e Lituania, la nazionale di Trapattoni mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai mondiali del 2002. Gli azzurri, infatti, sono saldamente in testa al loro girone, con un vantaggio di ben 7 punti sulla Romania, più diretta inseguitrice. Stesso viatico anche per gli azzurrini di Gentile, nelle qualificazioni ai campionati europei di categoria. Bene anche la nazionale femminile, guidata da Carolina Morace, che il 7 marzo a Rieti ottiene una prestigiosa vittoria per 1-0 contro gli Stati Uniti, squadra campione del mondo in carica.